Il grande tempo di questa notte è con i pizza. Papioli, Golden Gate, questa notte è la mezzanotte si presenterà il World Cup di Brasile, benvenuto in 2018. La mezzanotte è di Jay Seth di Marcello Nesco, la voceo Fabio Stilda, performance Christian Gay, c'è Roma di donna a tutta la notte, qui che sono 15 euro, se chiamo 3, 4, 8, 7, 8, 5, 3, 10, 10. Questa notte è di visualità, Cinesco non sliga, a volo del disco, tangenziale di Napoli, uscita di accampare la consuola. Quando si parla di trucche, è importante, scendere il mail.